buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds daily review l'ultimo parto della mia mente se vi piace il format vi ricordo che potete iscrivervi al canale e mettere mi piace alla recensione ho scelto per voi oggi questo disco di enrico de ghani che si chiama in between enrico de ghani è un bravissimo piuttosto di torino in realtà me l'ha portato di persona quindi sono particolarmente contento di questo incontro mi piace sempre incontrare i musicisti soprattutto quelli bravi questo disco un disco che enrico realizzato in trio con diana torto alla voce e mi crea rabbia a batteria e percussioni e elettronica la caratteristica principale di questo disco che enrico ha sviluppato un sistema per studiare le accordature con i quarti di tono per tutto un certo periodo e ha deciso poi di applicarle con della musica vera e propria anziché rimanere nel campo teorico il risultato è questo disco che è particolarmente interessante se siete chitarristi ma non solo perché esplora nuovi terreni ciao grazie buona giornata